Ciao a tutti, scusate il disturbo ma c'è qualcosa di cui vorrei parlarvi. Ormai è passato più di un anno da quando ho aperto il canale e da quando si è creata questa piccola ancora community che mi piace molto. Mi piace molto leggere i vostri commenti, mi piace molto capire ciò che vi ha impressionato, ciò che non sapevate, ciò che sapevate già, ciò con cui siete d'accordo, ciò con cui non siete d'accordo e devo dire che non vi risparmiate nemmeno le critiche che sono, devo dire, veramente a volte puntigliose, come è giusto che sia, perché si tratta di argomenti importanti, mi piace molto anche lo scambio di opinioni che si viene a creare non solo fra me e voi ma anche fra di voi. Un conto però è quando tutto questo avviene nel rispetto, un conto però è quando il rispetto viene a mancare. Devo dire ora un po' di cose che pensavo fossero banali, pensavo fossero scontate ma per alcuni invece non lo sono. Aperta parentesi, con il 90% di voi non ho alcun problema, anzi ho instaurato anche delle belle, non le definirei amicizie, però insomma dei bei rapporti di scambio, rapporti di stima, ok. Alcuni di voi sono anche molto gentili, sia per quanto riguarda le donazioni che per quanto riguarda anche alcuni inviti. Percepisco oltre alla stima anche dell'affetto, vi assicuro che anche io provo, anche se non sembra, affetto per voi. Però appunto, cosa volevo dire oggi? Che io mi trovo di fronte ad un bivio. Cioè, o leggo tutti i commenti, rispondo estensivamente a tutti i commenti, perché bisogna anche leggere bene il commento, prestare attenzione, rispondere, ma a volte devo cercare come rispondere, perché non sempre ho le risposte a portata di mano. Quindi o rispondo a tutti i commenti, rispondo a tutti i messaggi che mi mandate, rispondo a tutte le mail che mi mandate, oppure vado avanti con il mio canale. Io mi trovo tra queste due alternative, perché insieme queste due cose non posso farle. Cerco di conciliarle, cerco di interagire un po' con voi, ma poi io voglio fare altri video, voglio andare avanti, voglio raggiungere nuove persone, voglio affrontare nuovi problemi, perché è vero che già il canale è abbastanza soddisfacente, già mi dà molte soddisfazioni, per esempio, sapere che le persone che hanno dubbi sul proprio orientamento sessuale possono trovare un video che li può aiutare, le persone che hanno il doc, per esempio, possono magari confrontarsi con altri, le persone che vivono la propria sessualità con angoscia, magari possono analizzare quali sono le radici della propria angoscia, quali sono le credenze, per esempio, del cristianesimo e così via, ma questo non mi basta, non è sufficiente, c'è ancora moltissimo lavoro da fare, ho ancora tantissime idee, non mi voglio fermare. Ogni tanto mi piace fermarmi e riguardare quello che ho fatto, però so che c'è ancora tantissimo lavoro da fare, anzi, a volte, alcune giornate mi accorgo che se dovessi rispondere a tutti i commenti che ricevo, quella giornata stessa non basterebbe. Qual è l'evento scatenante? C'è stata una mail che mi è arrivata, che mi ha alterato e, appunto, per me ha superato il limite e mi ha spinto, appunto, a fare questo video. Allora, in questa mail mi si richiede uno scambio di opinioni sulla sessualità. A questo punto io dico, ok, non ho molto tempo da dedicarti, però posso rispondere a qualche mail. Allora mi viene inviata una lunga mail circa la storia personale di questa persona, fin dall'infanzia, poi adolescenza, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa succede? Che io a volte visualizzo le mail, però tolgo la notifica perché voglio leggerle con calma la sera, quando sono da solo, perché quando mi è arrivata quella mail ero in spiaggia, sono stato tre giorni in vacanza, ho cercato di staccare la mente, ma, come sapete, mi è impossibile staccare la mente perché questa passione in me è molto forte, quindi, anche se cerco di staccare la mente, comunque non ci riesco. Leggo, legge, le giucchio sempre i commenti, eccetera. Allora ho disattivato la notifica e ho detto la leggerò quando torno a casa con calma, perché se io leggo una cosa di fretta non vi do una risposta che rappresenta quello che voi avete chiesto a me. Un giorno dopo che ho ricevuto questa mail, ripeto, un giorno dopo, ricevo una mail, ricevo questa mail Scusa, se non ti va di dialogare o parlare con me, dillo e basta. Pensavo che certi modi di fare appartenessero alle ragazze etero. Evidentemente sbagliavo. Non posso neanche dire che è stato un piacere, visto che il massimo della risposta che ho ricevuto da te è stato dimmi. Allora che cosa c'è che mi dà particolarmente sui nervi di questa mail? Non solo il fatto che questa persona pretende che io risponda in un giorno di tempo. Allora, a parte che nemmeno a un mio amico se io chiedo qualcosa pretendo che lui mi risponda in un giorno di tempo. Poi comunque si tratta di una richiesta che hai fatto ad una persona che ora, non è che io sono Chiara Ferragni, ho capito, però insomma sono un personaggio pubblico, non ricevo mail solo da te e tu pretendi, quindi sei arrogante perché pretendi che io ti debba rispondere entro un giorno. Magari un giorno è il tempo che serve a me per pensare soltanto a una risposta, ok? Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è pensavo che certi modi di fare appartenessero alle ragazze etero, cioè si riferisce al fatto che io l'abbia ignorato. quindi lui mi sta offendendo dandomi della femmina, ok? Ma ciò che io dico sempre nel mio canale è che la femminilità non è un difetto, non è qualcosa di cui vergognarsi. Anche ammesso che fosse anche ammesso che non rispondere alle mail sia un comportamento tipicamente femminile, cosa che bisogna dimostrare, anche ammesso che fosse questo, non si usa la femminilità per offendere un'altra persona perché non è un'offesa essere femminili. e dunque cosa ci fa questa persona tra i miei iscritti? Ma sa chi sono io? Ha mai visto un mio video? Ma questa persona mi cioè lei pensa di offendermi dandomi della ragazza? Quindi veramente mi chiedo che cosa ci fa questo nel mio canale, non ha capito nulla di quello che io faccio. Allora, premetto che con il 90% di voi non ho alcun problema. c'è però un 10% che evidentemente c'è però un 10% che evidentemente non ha ben chiara la situazione. Allora, qual è lo scopo del mio canale YouTube? O di un qualsiasi canale YouTube poi nella maggior parte dei casi? Non è quello di cercare amici. Io non ho affatto un canale YouTube perché voglio perché sono da solo mi annoio e quindi voglio cercare amici, fare conoscenza. Non è lo scopo primario del mio canale. Certo, è qualcosa che può avvenire, che mi piace se avviene spontaneamente. Con alcuni di voi sono diventato anche amico perché magari mi interesso anche quello che voi fate, mi seguo per altri motivi e quindi può nascere certo un'amicizia spontanea ma non è lo scopo primario. Non faccio il canale YouTube perché cerco amici. Amici ne ho già. Quindi le persone che mi scrivono su Instagram ciao che cosa devo rispondere a questo messaggio? Ciao. Ciao come stai? Ma che senso a chiedere come stai a una persona che io non conosco? E che senso a far finta di interessarmi alla salute di una persona che io non conosco? Se hai qualcosa appunto che riguarda il canale rispondo volentieri ma se mi scrivete ciao non aspettatevi una risposta. perché non siete il Presidente della Repubblica se Sergio Mattarella mi scrive ciao io gli rispondo io non ho fatto il canale YouTube poi per confrontare le mie opinioni perché io sono insicuro sono insicuro delle mie opinioni quindi cerco un confronto cerco io sono abbastanza sicuro delle mie opinioni perché dietro c'è un studio perché dietro c'è già stato un confronto e lo scopo primario è quello di esporle poi certo ci possono essere dei confronti ma non è appunto lo scopo primario lo scopo primario è esporre i contenuti creare una community quindi i commenti che ricevo ragazzo hai sbagliato allora innanzitutto mi devi spiegare dove ho sbagliato perché io prendo in considerazione le argomentazioni quindi se tu mi scrivi hai sbagliato punto e non aggiungi altro sai che quel commento io non lo leggo e non ci rispondo a quel commento anche perché tu non sei nessuno quindi se tu sei Sigmund Freud e mi scrivi hai sbagliato io dico ah caspita ho sbagliato aspetta che studio meglio ma se tu non sei nessuno e mi scrivi hai sbagliato perdonami ma non mi fa molto effetto ma inoltre ragazzo ci sono molti adulti che mi scrivono ragazzino ragazzo studia meglio profondisci di più tornatene a scuola questi messaggi vengono da adulti che credono per il fatto di avere anni più di me credono di essere più intelligenti di me credono di avere più esperienza di me credono di avere più diritti di me in un dibattito io tratto tutte le persone allo stesso modo come sapete perché la ragione non conosce età quindi un messaggio di un quindicenne io lo analizzo razionalmente come un messaggio di un sessantenne come un messaggio di un ottantenne e chiedo che anche voi facciate lo stesso commentere chiedo che anche voi non mi trattiate da ragazzo giovane ma mi trattiate da individuo pensante quindi il fatto di avere un'età maggiore di me non vi dà nessun diritto in più inoltre con i miei video sulla religione non cerco una conversione religiosa non cerco la fede ok quindi vi dicevo tantissimi messaggi ogni giorno che iniziano con convertiti hai abbandonato la fede ma puoi ritornarci credi nel Signore Gesù guarda che la sua grazia ti può rinnovare ok a parte che se io cerco un ritorno alla fede leggo altre cose parlo con sacerdoti insomma avrei altre vie se io stessi cercando in questo periodo della mia vita un ritorno alla fede comunque vi comprendo perché è un comandamento quello di diffondere la fede in Cristo quindi vi comprendo da questo punto di vista siete dei buoni cristiani un cristiano che non cerca di convertire quelli intorno a sé secondo me non è un buon cristiano perché vuol dire che non gli interessa la felicità degli altri non gli interessa che gli altri abbiano la felicità eterna questo secondo me è un cattivo cristiano quindi vi comprendo però cercate di calmarvi un po' perché è veramente pressante ogni giorno leggere puoi cambiare puoi farcela caro fratello in Cristo ok diamoci una calmata infine io non faccio un canale youtube per leggere le storie degli altri conoscere la vostra storia perché sono alla ricerca di storie allora se sono alla ricerca di storie lo dico e negli spazi appropriati vi chiedo di inviarmi delle vostre storie oppure vi chiedo di rispondere sotto ai video con delle vostre esperienze ok ma in generale io non è che lo scopo primario del canale youtube è quello di conoscere la vostra storia ok la vostra storia certo me la potete dire ma con educazione con rispetto e senza pretese cioè io per esempio non mi sognerei mai di scrivere a Rick Duferre ciao sono Elia vivo a Piuminodese quando ero piccolo sai che io quando ero adolescente mi è capitato che la mia opinione su questo devi sapere che è cioè non concepirei nemmeno di scrivere questa cosa a un personaggio pubblico di pretendere che lui si interessi a me di pretendere che lui mi risponda subito va bene quindi detto questo vi ringrazio per l'attenzione era una cosa che volevo dirvi sono sicuro che mi comprenderete e niente continuiamo continuate tranquillamente a scrivermi continuiamo a coltivare il nostro rapporto puntando però sempre a un'ottica di rispetto e a un'ottica di futuro grazie a tutti grazie a tutti